Diego, io... sto facendo uno sforzo enorme per non piangere. Scusa, ma non riesco a mangiare. Ma che ti prende? Che ti ha fatto? No, 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 lui non c'entra niente, papà. Ma no... Aspetta, Violetta, non te ne andare. Sì, lo voglio. Oh, mi sei mancato tanto! Insieme possiamo fare e affrontare ogni cosa.